e adesso direi che ci siamo siamo pronti dai hai finito di far casino te? hai finito di far casino? che c'è? dai che devo andare a suonare da maria? no qua stiamo quasi in una serata sede è una serata sede Ascolta, facciamo così, sai, hai coperto così sei contento? Uno, uno! E' certo, fatti come fai? Tutta la serata per fare, dai, vieni. Dai, vieni, vieni. e poi ti leggo a tutto il sapore e poi ti leggo a tutto il sapore ci voleva pure questo sopra di essere a sera le voce c'ho paura e poi ci voleva è una minaccia ci voleva il disturbo attore anche qui perché sennò non eravamo soddisfatti siamo una sanremo allora adesso vediamo alla più giovane cantante in gara questa sera questa sua freschezza non ti deve ingannare però no eh, no eh, manca voi adesso ho l'altro pezzo dell'est ancora sempre dell'est? eh? sarò che sono l'est della comunità anch'io per cui aspetta, facciamo una cosa se vi piace fate un applauso se non mi piace se non mi piace va bene, andiamo avanti ma dobbiamo sfruttare tutta la sera questo qui? ah, non so, qualche birretta magari può fare sfruttare sì, dai, dai, stendiamolo subito così almeno facciamo di maniera ci sono tre amici che vogliono ma anche la bella sera guarda ecco, perfetto ecco, perfetto un diploma di partecipazione come ospite d'onore mille impegni tra i quali oh, basta abbiamo visto, abbiamo visto sei stato tu 5 euro per pagare bolletta per pagare bolletta per pagare bolletta ogni due due vedi di solito il tuo lato B allora lo scorso anno si sono presentati per rendere a maggio l'unica in persona allora è molto vicina e mi risulta quant'è io? eh no, si è arreddato? però come volevo mettere qua mettere qua va a finire che avremo i soldi per fare un nuovo oratorio con tutte queste cose eh guadagnare le 5 di prima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!